Dal team International Fight Gym Anuman Contest Pro Con 16 vittorie di cui 3 per capò 6 sconfitte e 3 pareggi All'angolo blu Damiano Ardigo Lo sfidante Dal team Seconds Out Con 16 vittorie di cui una per capò 9 sconfitte e 5 pareggi All'angolo rosso Antonio De White Ape Gicco Gicco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti